Finisce 1-1 Camerun-Guinea, mi sono visto questo match della Coppa d'Africa, Coppa d'Africa e Coppa d'Asia, che cercherò di seguirmi in questi giorni, in base poi agli orari e vari impegni, e se riesco poi alla fine delle competizioni faremo un po' un resoconto di ciò che è stato, ma di questo parleremo in futuro ovviamente. Detto ciò, oggi partita tra Camerun-Guinea, girone C, girone in cui c'è anche il Senegal che ha vinto 3-0 contro il Gambia, un girone bello tosto, dove tra l'altro poi già la prossima ci sarà un interessantissimo Camerun-Senegal e Guinea-Gambia, quindi quattro realtà che si confrontano a un certo livello. e un pareggio tutto sommato coerente con quello che abbiamo visto in campo, per quanto il Camerun abbia creato di più, abbia avuto l'uomo in più per larghi tratti della partita all'intero secondo tempo, e parte del primo, quindi avrebbe dovuto concretizzare meglio le occasioni, ma non è stato così, e parte con un pareggio che sicuramente lascia rammarico per Song e la truppa del Camerun. Diavara può essere contento, tra l'altro un Camerun che ha schierato, Ondoa in porta, Onana dovrebbe essere a disposizione nella prossima, Castelletto, Vu, Mukudi e Yonghua in difesa, Anciam, Kemen e Anghissa a centrocampo, con Magri, Tokuikambi e Nkudu davanti, Guinea invece con Kone in porta, Silladi, Akabi, Janvier e Conte in difesa, Konate, Moriba a centrocampo, Kamanò, Kamarai e Ghilavoghi a supporto di Baio. Una Guinea di Diavara che devo dire a livello tattico mi è piaciuto, un 4-4-2 corto, squadra con un baricentro alto, che lo ha proposto anche in situazioni di partita complicate, la Guinea ha cercato nei limiti del possibile di non abbassarsi, una squadra che fa molta densità in zona palla, per cui il Camerun avrebbe potuto, diciamo, provare qualche cambio gioco per cercare di uscire più agevolmente dalla gabbia che spesso creava attorno agli avversari questa guinea, un Camerun che fin dall'inizio dimostra di voler giocare palla a terra, anche partendo dal basso, e di sviluppare così le azioni. Però a partire bene è per l'appunto la formazione di Abarac, al decimo minuto la sblocca con un'azione che parte da un grande anticipo di Conte, giustamente squadra con un baricentro alto, deve lavorare con i quattro difensori negli anticipi a centrocampo, grande anticipo, azione così ribaltata, leggerezza di Kemenen-Cham, soprattutto del numero 6, che si fa portare via palla, e Baio buca Ondoa facendo 1-0. Camerun che ha subito l'occasione di pareggiarla su un calcio piazzato, squadra molto pericolosa sulle palle inattive nel primo tempo, la guinea l'ha sofferta abbastanza, ma Anghissà nell'occasione specifica non ha sfruttato l'occasione, un'ottima partenza dei guineani, grande aggressività, e Camerun che inizia a dominare con il passare del tempo, sviluppa molto sulle fasce, dove spesso arriva anche l'uno contro uno, perché gli avversari glielo lasciano, però una guinea che riesce a tenere bene botta, riparte poco, è male, questo c'è da dire, una guinea deve lavorare meglio sulla questione di partenze, perché ha lavorato male sulle ripartenze, ha sofferto poi anche quando nel finale di primo tempo, il Camerun ha provato ad alzare i ritmi, e con Kudu si è ritrovato a creare diverse occasioni interessanti, è sempre mancata l'ultima giocata, la scelta vincente negli ultimi metri, poi arriva l'episodio che cambia la partita, perché al 46esimo Camano interviene in maniera irruenta su Magri, e viene espulso dopo il controllo al monitor, e quindi obbliga la sua squadra a restare in 10 per l'intero secondo tempo, questo uomo in più lo sfrutta subito il Camerun, che al cinquantesimo trova il gol del pareggio, a difesa schierata, gol da certamente evitabile per la squadra di Diavara, comunque cross di Nkudu sul secondo palo, dove quasi tutte le squadre vanno in difficoltà, quindi ci può stare, e di testa è bravo Magri a sovrastare il terzino avversario, una Guinea che nonostante, ripeto, il gol del pareggio continua a lottare, non si abbassa, cerca di mantenere un baricentro alto, restando corta nonostante l'uomo in meno, e devo dire che il Camerun non è mai riuscito realmente a imporsi in maniera incisiva, perché sì, ha, se vogliamo, avuto il predominio del campo, affondando molto sulla sinistra, grazie alle giocate di Nkudu, però diciamo che poi oltre a quello ha concluso poco verso la porta, e anzi, in ripartenza la Guinea poteva fare veramente, veramente male, quindi c'è anche del rammarico, se vogliamo, perché la partita paradossalmente si poteva anche vincere, l'unica occasione veramente importante del Camerun, è arrivata quasi a tempo scaduto, con Tocco e Cambi, un'azione un po' confusa in area di rigore, in un finale in cui il Camerun ha messo molti cross in mezzo, grazie anche a Castelletto, però per il resto, diciamo, ripeto, poco, è un pareggio che tutto sommato possiamo dire essere giusto. Tiri 13-5, ti rimporta 3-2, possesso palla il 68-32, occasioni pericolose 2-1. Molto interessante nella Guinea-Facinet-Koné, che è subentrato, 2005, che sta facendo molto bene il Ligue 2 con il Bastia, ed è un giocatore che mi incuriosisce, quindi interessante vedere cosa riuscirà a dare a questa Guinea, soprattutto a partite in corso in questa Coppa d'Africa. Detto questo, però, bene assolutamente gli HB, difensore completo, a parte la velocità nel lungo, però molto attento, puntuale negli interventi, ebbene in Kudu, il più pericoloso nel primo tempo, assiste nel secondo, giocatore che, sì, magari qualche calcio piazzato lo poteva battere meglio, tutto sommato, però, ottima prestazione, male invece Kamanò, Reo di aver lasciato i suoi in dieci, e Kaman, che oltre ad aver sbagliato l'occasione del gol subito, ha commesso anche diversi altri errori tecnici evitabili, molto, molto evitabili. Detto questo, io mi fermo, vi saluto, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.